Musica 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 Laura, parla di tu, se poi c'è una musta Con chi devo parlare? Mamma Devo parlare o devo farcielo suonare? Non devi parlare Come si fa male? Ma forse è salerno in America Si, però non si vede bene perché piove Mamma, stiamo in macchina Ma è arrivata adesso? Dove stiamo? Vai lì È lungomare Siamo lungomare No, sti Adesso stiamo penso che è sotto avione Scusi, scusi Scusa, scusi Scusa Come stai? How are you? Come stai? Hello, how are you? Bene, bene, grazie Yeah, si, capito Yeah Okay, just one more I'm coming soon Yeah My mamma Bravo, bravo Bravo Bravo, bravo Papa e mamma Ah, non, bravo 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 Ma, che ne ha detto che non ha capito? Eh? Oh, sì, eh? Allora This is all, uh, also I know Ah, Francesca said, uh, to my dad Tell to Tony, see you later Oh, oh, that's what I... Allora, ci vediamo fra poco, allora Ciao, ciao Allora, vedi questa prima 16,000 lire Everybody's got a phone here Everybody Everybody's got a phone I don't got a phone Perché in America, no? I don't... If I had that, Laura That would ring every two seconds I don't got the time to pick up the phone C'è parlare di meno Se lui si prende il telefono, non... Ah, ma non mi riprende, sembra a meno Se riprende il telefono Ha detto che poi deve stare ogni due secondi a prendere il telefono E lui non ha il tempo per rispondere al telefono Ah, guarda che io non ce l'ho il telefono, però, eh E me lo deve dire in inglese Ma sei registrando? No No Stai registrando? Ah Recordo My partner Nice day Ma non devi telefonare alla cucina Ha detto che è un bel giorno Bella, bagnata Vedi che abbiamo anche Mc Donald's Mc Donald's Fabia 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 si dice sempre Oh, che bel panorama che stai prendendo Gianni, ma se la mamma e tu fai ricorda in italiano Anche questo è Battipaglia Già Battipaglia Battipaglia Battipaglia, ora Si, però fuori periferia Aspetta, aspetta Aspetta Aspetta, non trovo periferia Aspetta 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 Ebboli qua qua, là, quello veramente del mio zio sì, il mio zio uncle uncle zio zio Vito guarda guarda aspetta che non si vede niente ho capito? ho la scuola ok can you see them? i call it law yeah so you can do this do this law right up there hold your finger down on it wow no 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 this is for my house oh ok no 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 ne no 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 io se non vanno a te. Perfetto. In America non sono legati, come le devo guidare? No, no, questo no, perché non guida. Dopo, tagli. Ho capito. Voglio guidare. Grazie mille. Vogliamo scendere? Laura, guardami un attimo. Che stai facendo? Si porta in America così... No, Mr. Vesgo. Si presenta il genitore di Tony. Che stai facendo? Ah, no. Che stai in America, so he can introduce you to his parents. Si. Si, exactly. Right. Right. Come here. Ok. This is a hotel in Batibalia. Nice. This is a sign. This is a sign. I'm going to Paspezia today. This is the bathroom where you want little boys and girls to wash their hands. Let me shower. Grazie a tutti 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 Maria Grazie a tutti 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 Salute Luigi Luigi Grazie a tutti 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 No, non No, non Grazie a tutti 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 Grazie a tutti